Come sei stata a Bergamo in questi mesi, Casha? Molto bene, per dire è stato uno dei miei migliori campionati da punto di vista società, con tutte le mie compagne, con tutto lo staff, mi sono trovata veramente bene, ero molto felice e volevo proprio ringraziare a tutti quanti che mi sono stati vicini e che potevo proprio essere pezzo di questa squadra. Ora lasci una squadra un po' spaventata. Anche io sono spaventata. Che cosa puoi dire alle tue compagne che lasci a Bergamo? Io alcune avevo già detto cosa penso, quindi quello rimane il nostro segrettino piccolo. Così, tipo, un bocca al lupo, che posso promettere che guardo tutte le partite via internet, la mia rehabilitazione seguirò, li faccio tifo e quando mi sento meglio torno presto per starli vicino. Un saluto ai tifosi, al popolo di Bergamo. Sì, siete stati fantastici, grazie.